Ma hai presente quella nuova challenge? Dove ti infili la maglietta in verticale? Ciao io sono Anas e partecipo alla T-Shirt Challenge T-Shirt Challenge con Anas Grazie Allison per avermi nominato Per chi non lo sapesse la T-Shirt Challenge è una sfida che è stata lanciata da Tom Holland L'attore di Spider-Man Pubblicando così un video in cui si metteva la maglia a testa in giù E faceva davvero tanta fatica per essere Spider-Man Allora Io per mettermi sta maglia Per mettermi sta maglia Sì Mi sento davvero Spider-Man Una manica Mezza maglia La manica l'ho messa Adesso devo provare a mettere l'altra Mi stanno scoppiando gli occhi Mi stava per esplodere la faccia Comunque penso di aver capito adesso come fare Riproviamoci Ah una cosa che non ho fatto molto importante Facciamo stretching all'inizio Va là Non ho messo la testa Dalla parte della manica La faccia di Spider-Man Io la metto pure dentro Pure dentro i pantaloni Ce l'ho fatta Se non avessi parlato così tanto Al primo tentativo Probabilmente ce l'avrei Ce l'avrei fatta Però posso imparare Però